Il giorno 23 giugno 2020 sono di fianco al torrente Liro, di fronte a me ho la frazione denominata Bette, al di là di questo luogo c'è Chiavenna, poi giro l'obiettivo e vedo Prata-Camportaccio e quella stupenda montagna in alto, eccola là, di fronte a me c'è la frazione, diciamo il paese, prima di Chiavenna a Prata-Camportaccio, sono nella strada provinciale, nella direzione che mi porta alla città dove io ho la destinazione per prendere il treno per Colico. Aldo, un saluto da questo YouTube della Val Chiavenna, provincia di Sondrio.